buonasera buonasera amici music e sound come ogni lunedì dalle 21 e poi c'è cimi dj in console in diretta qui solo su music e sound bene innanzitutto questa sera nel mio dj set c'è una novità una traccia fatta da due ragazzi giovani molto bravi che vi farò ascoltare durante la mia diretta qui su music e sound e cosa dirvi buon inizio e niente iniziamo così questa è la diretta questa è bella di un livello di music e sound io vorrei salutare innanzitutto a francesco lombando e con il suo amico stefano cargiulo sono loro i compositori di una traccia che ascolteremo durante il mio percorso di questo dj set volevo ritanzare sano ed eccolo qua ragazzi lo sentite sotto questo suono di di carla diciamo è il nuovo brano di questi due ragazzi di stefano cargiulo si chiama questa traccia si chiama argullone e mi chissata da francesco lombardo ascoltiamo questa traccia che ho selezionato questa sera per farvela ascoltare su music e sound di carla diciamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.